In questo tutorial vi diamo degli esempi su come portare fattori all'interno della radice. Dobbiamo ricordare che se la radice presenta un indice pari, potremo portare all'interno della radice stessa soltanto fattori maggiori o uguali a zero. Partiamo da questo primo esempio. Abbiamo 2 per radice cubica di un quarto. Portiamo 2 all'interno della radice e allora scrivo radice cubica, ricopio il fattore 2 all'interno della radice. Ora, visto che l'indice della radice è 3, dovremo elevare 2 alla terza. Poi scrivo per un quarto. Svolgo ora questa potenza, 2 alla terza risulta essere pari ad 8 e allora avremo radice cubica di 8 per un quarto. Semplifico ora 8 con 4. 4 diviso 4 otteniamo 1, 8 diviso 4 otteniamo 2. Come risultato si avrà radice cubica di 2. Passiamo a questo secondo esempio. Abbiamo 1 terzo per radice quarta di 27. Osservo che la radice è di indice pari e allora dobbiamo garantirci che il fattore che portiamo all'interno sia una quantità maggiore o uguale a zero. 1 terzo è maggiore o uguale a zero, quindi posso portarlo all'interno della radice. e scrivo radice quarta. Ricopio il fattore 1 terzo, visto che l'indice della radice 4 deve elevare 1 terzo alla quarta, poi per 27, che vado a riscrivere come potenza di 3, ossia 3 alla terza. Vado ora a distribuire questa potenza 4 tra numeratore e denominatore ed otteniamo radice quarta di 1 alla quarta. Abbiamo 1 fratto 3 alla quarta, poi per 3 alla terza. Ora semplifico applicando le proprietà delle potenze. Tolgo 3 alla terza e l'esponente 4 del 3 a denominatore. Quello che resta è radice quarta di 1 terzo. Passiamo a questi altri esempi e portiamo questo fattore all'interno della radice. Osservo che la radice di indice è pari e allora possiamo portare all'interno della radice soltanto quantità maggiori o uguali a zero. Riscrivo allora meno 4 in altro modo, ossia come meno 1 per 4, poi per radice di 5. Ora posso portare questo 4 all'interno della radice. Ricopio questo segno meno, l'1 non c'è più bisogno di scriverlo, ricopio radice quadrata, ricopio il fattore 4 e visto che l'indice della radice è 2, il fattore 4 dovrà essere elevato alla seconda, poi per 5. 4 alla seconda è pari a 16, 16 per 5 abbiamo 80. Come risultato otteniamo meno radice di 80. Passiamo a quest'altro esempio e portiamo 2 all'interno della radice. Ricopio radice cubica, ricopio il 2 all'interno della radice. Visto che l'indice della radice è 2, il fattore 2 dovrà essere elevato alla terza, poi per 5. Sviluppo questa potenza, 2 alla terza è pari a 8, per 5 ed otteniamo come risultato radice cubica di 40. Passiamo a questi altri esempi e portiamo meno 3 mezzi all'interno della radice. L'indice della radice è dispari, quindi potremo portare all'interno della radice anche il segno negativo. Ricopio radice cubica, ricopio il fattore meno 3 mezzi, visto che l'indice della radice è 3, questo fattore deve essere elevato alla terza. Poi per 16 lo posso scrivere come potenza di 2, ossia 2 alla quarta. Vado ora a distribuire la potenza 3 ed ottengo radice cubica, meno elevato a una quantità dispari otteniamo meno, scrivo poi 3 alla terza fratto 2 alla terza per 2 alla quarta. Posso semplificare applicando le proprietà delle potenze, semplifico 2 alla terza con l'esponente 4 di 2. Ora, 3 alla terza è pari a 27, per 2 abbiamo 54. Visto che c'è questo segno meno all'interno, otterrò radice cubica di meno 54. Portiamo ora questo fattore all'interno della radice. Osservo che l'indice della radice è pari e questo fattore risulta essere negativo. Quando la radice risulta essere di indice pari, possiamo portare all'interno della radice soltanto quantità maggiori o uguali a 0. E allora riscrivo meno 2 in un altro modo, come meno 1 per 2, poi per radice quadrata di 3 mezzi. Ora posso portare il 2 all'interno della radice, ricopio il segno meno, l'1 non c'è più bisogno di scriverlo, ricopio radice quadrata, ricopio il fattore 2 all'interno della radice, ed ora, visto che è l'indice della radice 2, devo mettere come esponente di 2 un 2, poi per 3 mezzi. Quindi, osservo che 2 alla seconda risulta essere 4, quindi posso cancellare tutto e scrivere 4. Semplifico ora 4 con 2. 2 diviso 2 otteniamo 1, 4 diviso 2 otteniamo 2. Moltiplico infine 2 per 3 ed ottengo come risultato meno radice sesta. Portiamo il 2 all'interno della radice cubica e allora scrivo radice cubica, ricopio il fattore 2 sotto radice, l'indice della radice 3, e allora vuol dire che 2 dovrò elevarlo alla terza, poi per 9. 2 alla terza è pari a 8 e 8 per 9 risulta essere 72. E allora si ottiene come risultato radice terza di 72. Passiamo a quest'altro esempio. Prima di portare all'interno della radice, dobbiamo eseguire questo minimo comune multiplo. Otteniamo 4. 4 diviso 2 è 2, per 1 e scrivo 2. Poi meno 1 per radice di 24. 2 meno 1 otteniamo 1. Quindi abbiamo un quarto per radice di 24. Ora porto un quarto, fattore positivo, all'interno della radice quadrata e scrivo radice quadrata di un quarto, l'indice della radice 2, e allora vuol dire che un quarto dovrà essere elevato alla seconda, per 24. Sviluppo ora questa potenza ed ottengo radice quadrata di un sedicesimo per 24. Posso ora semplificare 16 e 24 per 8. 16 diviso 8 ottengo 2, 24 diviso 8 ottengo 3. Ottengo così come risultato radice quadrata di tre mezzi. Vediamo questi ultimi due esempi. e portiamo un mezzo all'interno di questa radice quarta. E allora scrivo radice quarta, ricopio il fattore un mezzo all'interno della radice ed ora, visto che l'indice della radice è 4, elevo un mezzo alla quarta per 32. posso scriverlo come potenza di 2 e risulta essere 2 alla quinta. Distribuisco ora la potenza 4 ed ottengo radice quarta di 1 fratto 2 alla quarta per 2 alla quinta. Posso ora semplificare applicando le proprietà delle potenze. Semplifico 2 alla quarta con l'esponente 5 di 2. Quello che ottengo è radice quarta di 2. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa dobbiamo eseguire il minimo comune multiplo. risulta essere 6, 6 diviso 6 è 1, per 1, e scrivo 1, meno 6 diviso 3 è 2, per 1, ed ottengo 2, per radice terza di 36. 1 meno 2 è pari a meno 1, e quindi abbiamo meno un sesto per radice terza di 36. Porto ora meno un sesto all'interno della radice. Questo è possibile farlo in quanto la radice risulta essere di indice dispari. E allora scrivo radice cubica, ricopio il fattore meno un sesto all'interno della radice, visto che l'indice della radice è 3, elevo meno un sesto alla terza per 36, lo scrivo come 6 alla seconda. Ora distribuisco questa potenza 3, ed ottengo radice cubica, meno elevato ad una quantità dispari, otteniamo meno, 1 fratto 6 alla terza per 6 alla seconda. Ora semplifico 6 alla terza con 6 alla seconda. Tolgo 6 alla seconda e l'esponente 3 di 6. Quello che resta è radice cubica di meno un sesto. E con questo termino il tutorial su come portare fattori all'interno della radice.